And it's like there's no tomorrow Dalle scatole tutte le creature fastidiose con l'iniziativa Quanto meno le più fastidiose con l'iniziativa Quindi torniamo a giocare il formato più bello di Magic Prima di iniziare a vedere il video mi raccomando come sempre lasciate un like e iscrivetevi al canale Siamo tornati a UV Familiar che è un po' il mazzo che porterei sempre a qualsiasi torneo Ci ho già giocato una league portata qui da qualche parte Portata quindi ve la lascio da qualche parte Torniamo nel formato, l'unico cambio che ho fatto è stato togliere i foil che giocavo main deck E li ho tolti proprio dal mazzo per tornare una shell che giocavo pre-inserimento di Baldur's Gate Nel formato che tra l'altro me l'ha fatto un po' abbandonare il POW per quell'espansione Perché era diventato tutta una gara a chi fa terra rito o qualcosa prima dell'altro Allora come funziona il mazzo? Molto velocemente perché ve l'ho già spiegato Il mazzo è un midrange in buona sostanza Che ha la possibilità di sfruttare il vantaggio di mana dato dai Sunscape Familiar Che ci fanno scontare tutte le nostre spell blu E praticamente il nostro mazzo è mono blu tranne 10 carte che adesso andiamo a vedere 4 Sunscape Familiar Cerca di sfruttare questo vantaggio mana con le nostre spell forti Tipo doppio proibit, 4 snap, tripla di Modern Age Che vorrei sempre giocarne 4 ma non so mai cosa tagliare Potrei giocare 61 carte Un Sage Road and Isen che è la nostra uscita combo del mazzo e del flex slot Che si alterna con la quarta di Modern Age 2 Ghost Reflicker, 3 Deep Analysis, 3 Archeomancer e 4 Mule Drifter Cosa fa il mazzo? Fa delle spell che costano poco Fa un vantaggio per cui si riesce a impostare un board consistente dalla nostra parte Nel frattempo cerca di pescare le carte per riuscire a scombare con Sage Road and Isen Che è una combo che milla il nostro avversario La combo funziona se abbiamo in campo Doppio Sunscape Familiar che sconta le nostre spell di 2 in colori in generale Sage Road and Isen, un Isola, un Archeomante e un Ghost Reflicker in mano Quindi è una roba molto complicata che si sviluppa nei turni più avanzati della partita Ma che può essere un ottimo out a dei matchup fastidiosi Noi continuiamo a flickerare Archeomancer e un Isola In maniera tale che con Sage Road and Isen all'ingresso nel campo di battaglia di Archeomante Migliamo di 2 il nostro avversario Con Archeomante riprendiamo il Ghost Reflicker che abbiamo usato per flickerare Archeomante E lo ripaghiamo con l'Isola che abbiamo flickerato Che rientrerà nel campo di battaglia stappata Avendo così un loop infinito di spell E potendo uccidere il nostro avversario di Mill nella sua upkeep C'è la versione col verde di questo mazzo che gioca anche Weather the Storm Per prendere del vantaggio da tutto questo funicoli, funicola di spell A noi basta giocare così per stare un po' più dritti sulla mana base Mana base composta da 21 terre, 4 Azorius Canceri Una quantità innumerevole di isole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isole 2 pianure, 1 Tranquil Cove che è tornata dopo l'uscita di foil dal mazzo 1 Evolving Wilds e 4 Ash Barrens come cerchini per le terre E una Mortuore Mai che ci permette di andare a rimettere un pezzo dal cimitero in cima al mazzo Cosa interessante, può essere flickerata quindi questo effetto può avvenire più volte Cosa sono le nostre 10 carte bianche? 4 sono Sunscape Familiar 4 sono God Pharaos Faithful che in un meta pieno di burn voglio sempre avere in 4x È una carta 0-4 che sta fuori i maggiori spot remola 1 che è Bolt nel formato al momento Quando casti una spell blu, dei colori grixis ma non interessa la parte blu Guadagni una vita quindi ci permette di guadagnare molto molto tempo contro i mazzi a base rossa 2 copie di Ephemerate, tra l'altro questa lista gioca 2 Ghost Steel Flicker sopra la quarta Modern Age Questi sono un po' gli slot flex, anche la terza di Panalysis Ci può stare, non giochiamo i Seagate Oracle perché al loro posto giochiamoli in Modern Age Che nel momento in cui finiscono la loro utilità come saga di Pesco Scarto diventano dei 2-3 volanti molto molto interessanti E questa è principalmente il main, sono tornato a giocare i Proibit sopra i Loose Focus Perché mi ci sono trovato meglio io principalmente, è vero che contro Cascade Loose Focus è molto meglio È un po' la nostra Fluster Storm del formato però preferisco tornare su questa cosa La side è composta da carte contro Monored, ovvero 4 Elemental Blast e 2 Blue Elemental Blast Carte contro Affinity, quindi doppio Revoque Resistance e 4x di Dust2Dust Una carta contro Aure, anzi più carte che si ciclano in più matchup Che sono contro Aure, Downbringer Cleric e doppia copia di Stonewall Dignitary Contro Monored può entrare anche Stonewall Dignitary perché se non fosse Burn ma fosse Red Deck Queens Ha bisogno di passare dalla combat per ucciderci E Downbringer è molto molto comodo in realtà anche per quei matchup Tipo dove ci sono altre cose fastidiose tipo Makeshift Munitions o similari Poi può tornare comodo contro Burn non Red Deck Queens perché ci fa guadagnare 2 vite Quindi è una carta aggiuntiva da andare a sideare in quel matchup Che comunque non è affatto male di base Andiamo un po' a vedere qualche gameplay L'ultima volta ho perso Diciamo le partite che ho perso sono state per il timing Nel senso che questo mazzo è molto lungo da giocare su MTGO Quindi dobbiamo allenarci a cliccare parecchio in fretta se vogliamo concluderci qualcosa Salutato il nostro avversario siamo sul play Iniziamo noi Ok Allora questa mano ha terra preordain Terre tante terre preordain Non mi fa impazzire quindi la muligheremo Un pochino di action Qua ci sono due peschini credo di chi parla Ghostly Flicker per adesso non mi fa impazzire particolarmente Allora io spero di non beccare più gente con mazzi a base iniziativa Però non è detto perché magari erano nella league Turbo iniziativa mettiamo così Erano nella league il ban è avvenuto e loro stanno ancora giocando Sotto questo la pesco perché poi lo rifaccio alla peggio Mortuari Mair per rittare il land drop Ok ho un mono bianco Ok Uh è gran peccato Preordain Devo mettere sotto questo ponder sopra questa Faccio il secondo ponder Cerchiamo un bianco Orca miseria Sicuramente Posso fare pesco scarto con questo Allora l'isola mi piace Modern age mi piace Archiomante non particolarmente Quindi facciamo Tac 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 Shuffle no Pesco isola Al turno dopo farò pesco Modern age faccio modern age Scarterò archeomante Che poi posso rimettere sopra con Mortuari Mair Diciamo che se troviamo il bianco Andiamo via anche abbastanza bene Isola vai Dopo abbiamo un altro pesco scarto Per fortuna il clock adesso non è esagerato Ma perché mi faccio i cazzi Non ha rosso per il momento Ok facciamo risolvere il trigger Qui credo di scartare isola Cerco il bianco E vai Ah siamo ok Control removal Nel senso che abbiamo snap Possiamo fare un blocco Ecco a rosso Se il suo piano è menarci con tutto Ok Una carta in mano per lui Dopo abbiamo un 2-3 Che possiamo mettere davanti a un pezzo E allora il discorso è Io faccio questo Into l'Evoke Pesco 2 carte Magari ottiamo un land drop buono Vabbè ma anche Mortuari Mair Dopo l'Evoke di Muldrifter In realtà va bene Non bellissimo però Insomma Il nostro 2-3 si sacrificherà Il problema è che vorrei evitare Di mettere sanscape familiar davanti a qualcosa Ma forse siamo obbligati a farlo Noi siamo a 7 Da più 2 più 0 Quindi mettiamo questo qua E vai Va bene Vado a 1 Ma a 1 notoriamente Non è mai morto Orca putt vack No vabbè ok Abbiamo comunque Muldrifter in cima Allora qua facciamo un bel evoke Evoke in pila per ultimo Pesco 2 Facciamo questo qua Terra Terra Possiamo fare Snappo Questo Stappo queste due A3 faccio archiomante E riprendo quello Ok E passo E passo Cercando di settare un po' Chiaramente se lui pesca bolt Siamo morti Non pescarlo per favore Dai Sì Sì Dobbiamo pescare una god pharaohs faithful Ok Dopo possiamo fare archiomante Come si chiama Effimere sull'archiomante Cercare di ripigliarlo Questo via Ok Vola E questi anche Va bene vai Ci stai riproponendo il board Ma non siamo ancora Cioè non c'è ancora bolt in giro Va bene A questo punto lo tiriamo qua In maniera tale da riprendere dal cimitero Ok Allora Mi serve un Non questo Allora Pesco due Probabilmente così non ho più bianco Però se anche pescassi proibit Su bolt Ok abbiamo god pharaohs faithful Qua facciamo terra Che rimbalza questa terra No cazzo Dove potevo farlo Perché se facevo Snap sul mio Muldrifter Muldrifter Stappavo due Facevo god pharaoh Pescavo altre due Eh raga Qua è brutta giocata Brutta giocata In via tu Brutta giocata Che ci porta sotto bolt Forse non ci saremmo comunque arrivati Fuori bolt Ok guadagni uno Ok guadagni uno Io paro qua Si Va benissimo Si 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 Hai fatto tutto quello che volevi fare Zio Noi siamo già sotto di tempo Di brutto Ok Always heal da questa cosa Devo però fare così Perché se no ci perdo Veramente un sacco di tempo Con te riprendo questa E va bene Questi giocati Devo essere più veloci Facciamo god pharaoh Faithful A questo punto Facciamo Snap Su drifter Always heal da questa cosa Stappo questa E questa Facciamo che ti tiro Così Tengo fuori chiaramente il bianco Per effimerate Pesco due Madonna che brutte pescate Che abbiamo fatto però Abbiamo già fatto terra Si abbiamo fatto la pianura A 4 Allora Potrei andare a 5 Non ho snaps Al momento Se noi facciamo Preordain Andiamo a 5 Poi paro Questo Ne sono 1 2 3 4 Che ne passano Siamo sempre morti da bolt Va bene Preordain Tanto i femmeli Ce l'abbiamo ancora Ok Allora Deep analisi Sotto questo Mi piace Passo Scarto Oddio Potevo scartare Un'isola base O la cancelleria In realtà Non so perché Ma Mi sa Di Rally The Peasant Non ha pescato il secondo Va bene Concedi Peccato Siamo andati sotto Un po' troppo In fretta Secondo me Non è un matchup Negativissimo In realtà Qui lui Puoi mettere Del late Per il cimitero Di site Noi passiamo Dai doppi Stonhorn Che così Non ci attaccano Più per tanto Revoca Don Blinger Che può togliere Rally Depesante Al cimitero Credo che il resto Delle carte Siano abbastanza inutili Mi tengo la combo Gli snap Posso scendere Di un paio Secondo me Senza troppi Problemi E una carta Aggiuntiva Una God Pharaos Faithful Perché è vero Che aiuta Ma non è così Essenziale Forse è un Archiomante In realtà Più che Un God Pharaos Faithful Che tengo a 4 Che tanto Parlano tutto Perché tanto Mettendoci Dal cimitero Il pezzo Che ne soffre Di più È chiaramente Archiomancer No? Cioè quella È la teoria Vediamo se anche La pratica Ci segue Ok Sembra lentissima Questa mano Questa mano Sembra peggio Forse la prima Era Keepable Madonna Andiamo a 4 La vedo Molto grigia E togliamo Questo 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 Madonna Due ottime Le carte Però Proibite Preordentia For low Vai Di secondo Faremo La nostra Modern age Cercare di recuperare Un mulligan Così Grosso Forse potete Tenere quella 7 Ma non mi Convinceva Proprio In realtà Qua snap Non mi fa Impazzire In realtà Potevo forse Togliermi Proibite Perché tanto Sono tappe Da out Però Si è fatto Dopo Contro una squadra A meno Che non arrivi Adesso Lui forse Da boros Garrison A mollanda Questo è interessante No boros Garrison Ci ho sperato Mettiamo Mettiamo il land Passo Vai Dopo avremo Il nostro 2 3 Pronto a parare Va bene Se pescassimo Una terra Sarebbe Una Ficcata Forse Forse qua Mi conviene Comunque Andrò avanti Con le mie Credo che andrò avanti Con queste Proibite Vai Vediamo Battlescreech Questo non lo prendevamo Lo prendevamo Se non avessimo L'avremmo preso Se non avessimo Fatto niente Qua mi servono I miei Stordigni Cose Pensiamoci Perché se farelli The peasant Sì Io ne paro Uno Poi sono Tre Più Di più Zero No Sì 3 6 9 Morti Mi vale la pena Stare indietro Forse Vediamo Che qua Lo attacca Con tutto È chiaro Brocco Volante Già così Non siamo Freschissimi Comunque Perché Ce lo rifà Il prossimo Turno Dobbiamo Beccare Stonhorn Peccato 1 2 3 Non abbiamo più niente Che ci può salvare A questo spot Dovevamo Per fare Mulligan a 4 peso Forse potevo Tenere la prima mano Ma non mi piaceva Cioè Sembrava estremamente lenta Ma forse Dovevo tagliare Tutti gli snap Cioè Dovevo tagliare Gli snap Altri due Che averlo pescato Ho fatto Veramente Di uno schifo Intergalatico Cioè Una roba Veramente Inguardabile Probabilmente Dovevo tagliare Anche altri Snap Non mi sembrava Un matchup Così negativo In realtà Vabbè Fa niente Vediamo Come va Il prossimo Il mio personalissimo Schiaffo morale A chi perde I dati Continua E Questa mano È Keepable Sicuramente Prima Abbiamo tenuto Una mano Peggiore Speriamo Che lui sia tipo Monored E Similari In maniera tale Che aprile di Godfarhouse Faithful Abbia Qualche rilevanza Vai Tocca a te Contro cosa siamo Ok È un mazzo Col rosso Dobbiamo ricordarci Di tenere viva Questa Faithful Importantissima Qua facciamo Questa Passo Rimbalzo Questa Di terzo Faremo Sage Road Nizen Che ha la peggio Poi ce lo andiamo A riprendere Con la calma E la gentilezza Che ci contraddistingue Ma vabbè Peccato che non Triggeri Madonna che culo Peccato che non Triggeri Ogni spell Tirata Faithful Però non si può Avere tutto Non blocco Perché poi un Bolt Me la toglie Un Chainlight Me la toglie Non c'ho voglia Pesco Non posso anche Evocare questo In realtà Senza Andando a pescare Qualcosa di bello Poi di quarto Boh Vediamo Potrei fare lui Quarto Senza problemi Se pesco un'altra Quindi questo vuol dire Quindi questo vuol dire Che il turno Prima Ha tenuto Monolanda Beh Rimettiamo in cima Questa Vai pure Il nostro pezzo Il nostro pezzo di combo Che in realtà In questo matchup Non ci serve Particolarmente Per la combo Quindi va bene Così Dopo possiamo fare E il problema è che Archiomante fa schifo Possiamo anche pensare Di farlo Così a prescindere Culldata Rebirth Buono Su experimental Synthetizer Posso pensare anche Di fare così A babbo Archiomante Solo per guadagnare Una vita Poi dopo recuperarlo Perché fare Potrei anche fare Muldrifter In realtà Non bellissimo Però Cancella Faccio prima La terra bianca Prendiamo il nero Tengo open il bianco 2.2002 Ho sbagliato Ho cliccato male i tasti Fa niente Vabbè tanto Non peschiamo Comunque Una spell Da tirare Quindi siamo a cavallo Vai Mazzo Per favore Un preordine Qualcosa che renda utile Quell'archiomante Beh gli abbiamo mangiato Una terra Cosa buona e giusta Allora Che un bolt Di sopra Due bolt Sono andati Ma può fare Che palle Io però Mo' le ho finite Le god Faros faithful C'è Le mortuari Maire Scusa Mamma mia Ha pescato la terra Va bene Possiamo non pescare Una schifezza Parca Troia Cosa per ciampare Fa veramente Di una schifezza Questa partita Ragazzi Che Vai Lui a sei carte In mano Riuscita a girare Terra Il botto Per la mia Godfaro Faithful Poi averne in mano Un altro Io sono riuscito A pescare Solo land Praticamente Da quando è iniziato La partita Wow Va bene Madonna mia Veramente Porca Eva Fa attacca Con tutti Zio E io Come ne usco Da questa roba Sono morto Non ho uno Che controburn Porca Eva Che sfiga Anche questo Questo è un matchup Totalmente Della mia parte Com'è possibile Che Cioè Sia riuscito A pescare Il nulla Cosmico Così totale Non è Allora Le hydroblast Mi sembrano Un'ottima Cosa Don't bring Il cleric Mi sembra Un'ottima Cosa Non mi fa Impazzire Avere Dust To dust Perché Si lui Ha i sintetizer E l'alter Artefatto Però Boh Mi sembra Un'oversight Data Abbastanza Gigantica Via lui Va Forse Un paio Un Sonscape Possiamo Anche Tagliarlo Deep Analisi Sia un po' Lentina Peschini Bassi In realtà Vorrei Anche Tenermeli Gli snap Ne tolgo Un paio E Un Archeomante Tanto Scendiamo Con la Combo È vero Che Dust To dust Continua A non Farmi Impazzire Se fosse Rakdos Con accesso Anche Alle I ponti Allora Si Ma qua Alla fine Si Mi ha fatto Top Synthetizer Bravo Lui Però Boh Ha 4 land E 4 Synthetizer Non mi sembra Pazzesco Kippo Tutti i peschini Del mondo E un Hydroblast Mi sembra Una buona Vano Ok Facciamo Prior Day Sotto Questa Questa Mi piace Me la Pesco Vai Lui farà Volare Ne Picchi La partenza Più Forte Che Può Farmi Ci Sta Pesco Qua Credo Di Levarmi Snap App Ponder Forse Ponder Dai Vai Serve il Bianco Però In tutto Ciò Mi serve Il Bianco Un Dot Rebirth Ci sta a farlo Adesso Che Ero Tapped Out Bottiamo via Questo Mold Drifter Madonna Veramente Questo Qua Riduciamo Un pochettino La race Adesso Mi farà Facciamo Preordain Bottom Top E qua Voglio Itare Land Drop Quindi Faccio Questa Prendo Il Bianco E Passo Non Bella Come Cosa Non Molto Bello Se Che Palle Va Bene Reckless Fraterra Reckless Ci sta Si A me Serve L'omino Che mi fa Guadagnare Le vite Easy Ci vedo Niente Di strano Pesco Ok Secondo Bianco Ponder Evolving Gua Non Mi Piace Niente Di Questa Dei Bloccanti Con Open Un Hydroblast Vai Lo Ha girato Doppia Landa Quindi Deve Giocare Con Le Cinque Che Ma Non So Poche Eh Però Si Non Soffro Particolarmente Vero Questa Cosa Questa Un pochettino Mi sta Più sulle Palle Perché Il bloccante Effettivo Che Palle Quante Kuldot Arribbe Orta Abbiamo Si Mamma mia Dove Perché Non sto Giocando Eco Intruth Di side Sarebbe Stato Forte In Tutti E Due Matchup Che Ho preso Perché Non Attacchi Comunque Davvero Che Bomba Ho Schafflato Per Pescare Peggio Ci Sta Va Bene No C'è da dire Che fin Che mi Tira Tutti Remove Sui Pezzi Abbiamo Un po' Più Di Tempo Non Bellissimo In realtà Questa Cosa Pesco Scarto Madonna Mi Attacca Per Sei Mamma mia Come sto Soffrendo Ragazzi Possiamo Pescare Stone Ordignity Per favore Possiamo A nove Un Attacco Bolt No Non tiriamo Vai Devo pescare Dei peschini Non è complicatissima Come situazione Vado a quattro Però Cioè Galvanica Non me ne fa quattro Però Che palle Rosso Tre carte in mano Tra l'altro Tantissime Per botti L'ansia L'ansia Tutale Che mi assale Peschino Eh Vabbè Ma che palle Vai E E Moio Dall'attacco Dei goblin Cioè E' pazzesca Sta roba Raga Ma come cazzo È possibile Perché Manca un Echo Entruth Di side Decisamente È una roba Incredibile Cioè Pave G1 Ho pescato Il nulla G2 Quasi Mi sento un po' Defraudato Da questa vittoria Echo Intruth Sì Non ho Perché ho Zero Carte Cointruth Qua Credo O sopra uno di questi Sei spot Slot Che Non ho visto Comunque O sopra un Dust to Dust Ovviamente Gioco così Tagliando una di queste Ok Vediamo se Anche questa Vinciamo Madonna mia Sui dadi Cazzo sono un fenomeno Good luck Che fun Se riusciamo poi a Canalizzare la fortuna In una pescata Decente Non Incredibile Top Evolving wilds Tocca a te Vabbè in step Poi prenderò bianco Con questa Ok Quarevo Resistence Come cacchio Si chiama Scusatemi Revoke Resistence E Dust to Dust Invece ci stanno Non vado di Sanskip Perché non ho niente Da fare di seconda Non ci vuole Disporre la bolt Così a caso Lui potrebbe giocare La lista di Mardu Mardu L'ultima che ha giocato Aizen Tempo fa Che è un bel mazzo Tra l'altro Pesco Tutti i famigli Devo pescare Allora uno lo faccio Facciamo lei Facciamo lui Passo Io gioco Mono bianco Bounce land Adesso cicliamo In apki Per toglierci Una terra dal mazzo C'è Botto di sopra Ci sta High Wellspring Va bene Ciclo Blu Tanto un bianco Mi basta Per ora Pesco Un bel Mule Drifter Mule Mule Drifter No doppio famiglio Vorrei evitare di esporlo Facciamo che pesco due Tenendomi un bianco In Puglia Evoke dopo Che se peschiamo Per sbaglio No Però l'idea C'è da dire Che ce l'avevo Prossimo turno Possiamo fare una Deep analysis Ci farei peschino Cioè Sunscape Into deep analysis Anche solo Deep analysis Mi serve Vabbè Si non mi va Troppo di esporre Il mio Sunscape Però Che fai Core skyfisher Va bene Lui è tanto mana Va bene Pesco due E che palle Quante terre Dovevo pescare Ancora Ditemelo Vabbè La cosa positiva È che dopo Il flashback Deep analysis Non lo pago Praticamente Perché faccio lei E poi non pago Le tre vite Perché mi tornano tutte Ma tutte tutte Vuole farmi galvanica Qua sopra Nessù fa terra Galvanica Va bene Madonna Oggi Kuldota Rebirth Che becco Quell'Eco Intrute Cosa sarebbe Stato da me Indeccare Rido Rido Ok Abbiamo uno snap Pensa Possiamo fare Snap Su un token E andare a riprendercelo Quello snap Incredibile Andiamo fino a next step Posso non parare Perché il prossimo turno Guadagno 8 Suppongo Bushwalker Forse uno lo paro Va Ma cos'è oggi Tutti questi Bushwalker deck Non ho capito Perché non fare Prima questo E poi goblin Scusa Ah minchia Bella mossa Ho capito Perché l'ha fatto Bravo Molto bella Beh tre Quattro I quattro goblin Posso pararli Comunque Sono delle Zero Quattro Ok Ora Noi facciamo Snap Qua Così Poi facciamo Archiomante Riprendo snap Poi faccio Un altro goblin E poi faccio Mull drifter Devo fare forse Qua sopra addirittura Ok Vai Giorgo Cicleremo anche qua In apchi Per toglierci un po' Di terre Dal mazzo Però un po' Mi mancano i miei Seagate Oracle Se posso dire Va bene Il più Non stanno facendo Queste cose qua Mi mancano i miei Seagate Oracle Non paro Va bene Pesco una bomba Beh Bella carta In realtà Guadagno 4 Guardo 3 carte Deep analysis No Deep analysis È molto carina Secondo me Ne voglio un po' Tutte Posso mettere Su Ah Preordain Deep analysis The modern age Pescare un botto Di carte Shuffle No Facciamo questa Guadagno 4 Pesco Scarto Deep analysis Pesco 2 Vado a 34 7 E poi Facciamo Preordain Comunque ho pescato Una quantità Di lande Imbarazzanti Top Top Metto Questa E mi rimbalzo Te Vai pure Tocca A te 1 Forse potevo Attaccare anche Con il mio Muldrifter Perché tanto Parare Quelle 2 3 volanti Non ha senso Siamo quasi Lì quei tempi In realtà Quindi siamo Troppo di fretta Vediamo Oh Mazzo Se svegliato Stiamo giocando Una partita Di magic Certo Avere 4 Godfarous Va bene 4 Godfarous Faithful Anche bello Mia mamma Mi ho mangiato 3 sunscape Però in realtà Adesso comunque Posso fare Mortuari Maier Va bene Prendo Ah c'è da dire Che posso anche Tenermelo in mano Pesco Scarto Nel blu Posso anche Tenermelo in mano Questo mortuari Maier Per il momento Allora Uh Si Facciamo Sopra Sopra Ma vogliamo Ephemerate Rimbalziamo Questa Carta E Allora Attacchiamo Con il nostro Simpatico Amico Volante E facciamo L'altro Simpatico Amico Volante Secondo me Castato Senza Problemi Pesco Lui sta andando Molto indietro Noi siamo 8 carte Scartiamo Te Vai Posso fare Mortuari Into Ponder Se mi dovesse Servire Per qualcosa Una quantità Di terre Clamorosa Ok Gira il nostro Amico Perfetto Prior Day Che Per ora Non ci serve Ancora Mettere in cima Niente 49 Bello 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 Tutto Molto Bello A questo Punto Facciamo Mortuarimire Su Amico Sunscape Familiar Facciamo Ok Yes Ponder Abbiamo detto Che vogliamo Non Shufflare Facciamo Sunscape Familiar E col Blu Facciamo Tolgo Questa Senza Troppi Problemi Guadagno 4 Facciamo Questo Su Pesco 2 E Facciamo Mood Drifter Pagato Mi Avanza Humana Blu Che non Mi Ricordo Più Cosa C'è In Cima Ma Credo Che Sia Una Modern Age Infatti Facciamo Modern Age Scarto Questa Passo E Poi Avrò Un Simpatico Effemerate Io Ho Tolto Una Core Che Mi Combo Questo Spottone Gigante Si Non Possiamo Proibitare Kikierato Però Chi se Ne Frega Abbiamo Un ghost Flick Nel Cimitero No Va Bene Dunque L'archeomante Possiamo Riprendere L'Effemerate Che facciamo Adesso Muldrifter Andarci a Cercare La combo Si Guadagni Due Vite Va Bene Adesso Ci fa Giocare Per Il Tempo Pesco Due Ok Pesco Una Carta Scarto Una Terra Facciamo Questo Archiomante Ok Facciamo Che Riprendiamo Ponder Perché Voglio Vedere Delle Figurine Di Magic The Gathering Gioco Di Carte Collezionabili Ponder Ghostly Flicker Ok Questa Cosa È Perfetta Noi Facciamo Terra Blu E Questo Pezzo Passiamo Ops Costavo Nemmeno Non Attacchiamo Neanche Il prossimo Turno Proviamo A Scombare Mi farà Scrae Due Ok Cioè Avrei potuto Provare A scombare Anche adesso Ma ho Troppo Poco Mana Per Stare Sereno In realtà La mia Ma Non Me Lo Permette Ma Ho Bisogno Di Più Mana In Uno Snap Si L'hai fatto Minacciosissimo Goblin Burmarshal Ok Pesco Ok Si gira A questo punto Io faccio Ghostly Flicker Qua E qua Con questo Riprendo Ghostly Flicker Con questo Qua E con questo Prendo Sunscape Familiar Yes A questo punto Con un simpatico Blu Faccio Ponder Ok E mettiamo Snap Flicker E Sunscape Familiar Che è quello Che ci interessa No Facciamo Sunscape Familiar Facciamo Ghostly Flicker Qua E qua Ok Tu prendi Questo E poi Facciamo Tac Tac Certo che Tutte le volte Me la fan far Tutta Ok Ok E' un mondo duro Quello di noi giocatori di combo Molto duro Ok Si Tac Tac Non possiamo Allargarlo un po' Così mi viene più facile Un po' rude Il nostro avversario Ma va bene così Ok 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 Canisera Che due palle Mamma mia Quanto odio Quanto ti fanno fare Tutta questa combo Che è l'unica Che puoi giocare In sto formato Ti puniscono Sempre Giocare sul tempo Va bene Ok 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 Lo accetteremo Siamo anche a 129 punti feriti Sì punti ferita Punti vita Scusate Un attimo Di D&D Mi è salito Ok Tac Tac Scusate So che non è la cosa Più attrattiva Del mondo Vedere questa cosa Però Lui ha 11 carte Nel mazzo Tac Tac E' pieno di trigger Purtroppo Sto mazzo Quindi è un po' Clanky Da giocare Mi rendo conto Però Che ci volete fare E' quello che ci piace fare Quindi insomma Lo facciamo Lamentandoci Ma misuratamente Ok E con questa Prendiamo un ottimo Ephemerate Che tanto abbiamo finito il giro Vai F6 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 Ok E G1 Ce lo siamo portati A casa Abilmente Ok Paga eco Bravo Ci sta che paghi eco Vai Pesco Allora Vediamo un po' 25 minuti Ne abbiamo usati 13 Ne abbiamo usati un po' Ma a sto punto L'altra volta Non abbiamo messo Mettiamo Sti pezzi Di hate Io proverò No La combo Voglio lasciarla In realtà I god far out faithful Sono stati molto molto utili Cosa tagliamo Vabbè Gli snap Non sono pazzeschi Lui potrebbe mettere Dell'hate Quindi scendiamo un po' Sulla combo Vengo a stile flicker Scendiamo un po' Lasciando lui Perché se no Se togliamo anche lui Non abbiamo proprio più niente Per scombare Modern age Mi piace Ma i proibit Non mi fanno impazzire In questo matchup Non mi sembrano Incredibili No no MTGO Non frizzare Ti prego Grazie Ogni tanto ha Questi momenti Di debacle Incredibile Incredibili Ragazzi Devo essere molto più veloce Nelle decisioni Però se voglio giocare Sto mazzo Perché se no È anche vero Che giocarlo parlando Non facilissimo Forse posso tagliare Una di Panalisis Sopra una di queste Un counter Spero lo teniamo Detto che forse Le blast Sono meglio Però quante Ok Eh ma si vedeva Che oppone Una persona simpatica Non mi ha neanche risposto Il good luck Fan Bastardo Keep Che è proprio Keep Questa Una mano Che può Fare delle cose Potenzialmente Può fare delle cose Keep Basata sul fatto Che lui Appoggi Delle terre Artefatto Questa non è Un'altra artefatto Ma le ha fatte prima Sì Non è che mi sto inventando Le cose Prego vai pure Prenderemo il bianco Con quella Non salta All'endrop Va bene Noi possiamo Farevo Resistence Non possiamo Più farlo Beh lui si mangia Due carte Con questa roba Giusto Sì Bianco Modern age Vai pure Toccate age Pesco Scarto Un Sonscape Vai Toccate Oppure Ho fatto F6 Ah Ok Allora Dust Dust Ma ha fatto Solo un pezzo Lui Togliamo I pezzi Da fare Per Cool Dot Rebirth Rimbalziamo Questa Toccate Ok Terra L'abbiamo fatta Madonna Due artefatti C'è Gli ha Prima che Si balza Questo Non riesce Non li lascia Mai giù Bravo Si mangia Un sacco Di carte Quindi bravo Boh Però Ci frega Su quel punto Di vista Facciamo Isola Sonscape Familiar Toccate Non pescare Carte Che fanno Value Il problema È che Avendo tolto I Seagate Oracle Abbiamo Tagliato Le carte Che fanno Value Cosa Non proprio Fantastica Se posso Dire Va bene Forse potevo Canterarglielo Direttamente Questo Però Gira Ok Counter Su questa Per cercare Di limitare Un po' I danni Madonna Pure Reb Unbolt Qua Facciamo Efemerate Pesco Si la mettiamo Al cimitero Per che così Nel caso Un archeomante Ce la riprendiamo Ok Facciamo The modern age Credo che questo Dust to dust Se ne possa andare Abbastanza Tranquillamente Creature O artefatti Male male Dobbiamo aspettare Che flippi Quella modern age Per sfruttare Ghost flicker Si Ho tolto Dust to dust Mi ha giocato Lecore Wellspring E Synthetizer Minchia Makeshift Munitions Aia Eh va bene Si Qua f6 Non è più Niente da farmi Cerchiamo solo Di recuperare Un po' Di tempo In tutti questi Spazi vuoti Value 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 Mazzo Value E il cazzo Proprio Va bene Si forse Potevo tenere Questa In realtà Pesco 2 Noi si Da questa cosa Ok E poi Ciclo Per blu E facciamo The modern age E Scartote Eh si Mi espongo Un attimo Nel senso che Sono rimasto Senza Landy Open Per il nostro Ghost Flicker Però Vediamo Turn up Posso fare Archeumante Che riprende Effimerate Sono open Di Ghost Di Flicker Lui però 6 non ce li ha Ne ha 4 Di danni Dai Va bene Vede delle carte Con quella Makeshift Munitions Che non è proprio Pazza Ok No Galvanica Ok Va bene Con anche Galvanica We are dead We are very Veri the ad Ok Molto male Beh sicuramente No in realtà Le 6 date Di hate Per gli artefatti Ci possono stare Ok Vedi Inside board Hydroblast A questo punto Secondo me Più forte Di proidbit Flicker L'abbiamo lasciato Uno Per questo Mi toglie L'incantesimo Di merda Quindi ci sta Il mio Blue count È comunque Molto molto alto Ci hai dato male Può essere Ok Ok Yes E via Chippo Facciamo terra Godfara Ors Faithful Sì dai Abbiamo doppio Revoque resistance Che se lui per sbaglio Tiene una mano con le terre L'artefatto Sarebbe carino Da parte sua Non è felice Di vedere Cosa succede Abbiamo recuperato molto tempo Certo avrei preferito vincere Piuttosto che recuperare tempo Però prendiamo un po' quello che viene Accettiamolo con grande gentilezza Vai Questo pezzo è molto utile In realtà Contro tutti i mazzi Che abbiamo beccato Fino ad ora Secondo me Per ora Una delle mie migliori partenze E che palle Parte sempre con questa Landa qua Lui Vabbè fa niente Noi qua facciamo lei La rimbalziamo lui Tocca a te Vai Sì Ok Un target da eliminare Forse taglio più No Il taglio Orlanda Credo Taglio entrambi Così siamo Senza problemi Vai Tanto un'altra Landa ce l'avrà No Non ce l'abbiamo Va bene Magari la bonus Garrison Ok si mi togli questo Va bene Ok Immaginavamo Non farà del value Con quella relic Togliergliela Potrebbe essere un piano Sfruttiamo al massimo Il mana che abbiamo A disposizione Perché tanto il peschino Lo andiamo a fare Facciamo peschino In tu Porca miseria Eh no Sotto sotto Perché mi servono le lande Infatti Vedo che Il mazzo mi ascolta Una cifra Vai pure Tocca a te Beh dopo possiamo fare drifter Ma davvero Basta Facciamole tutte Vai Mamma mia Sta diventando ridicolo Questa la tengo per la lande In realtà Anche se Sarebbe buona Da fare adesso Contro tipo falchetto Forse devo farla subito Preferisco farla Su questa qua Ok Eh infatti falchetto Eh Dobbiamo provare a togliere Uno di due Aia Beh no Possiamo fare Eh Possiamo fare che peschiamo una landa Così ci sblocchiamo la mano Perché Gli ho fatto via Una landa E Comunque Sono sotto Ok Beh Non particolarmente rilevante Il fatto di fare degli 1-1 In questo spot Della partita Onestamente Sì Però quello è un 3-3 Va bene Allora Che scudo Mi guadagno 3 Mi guadagno 3 Facciamo questa Così posso counterargli L'esperimental sintetizer E passo Cioè provare a counterargli L'esperimental sintetizer Vai F6 Tocca a te Ok Va bene Va bene Beh Ho fatto nebbia Sto turno Facendo una spell Comunque Allora Noi qua possiamo fare Tranquilcove Senza troppi problemi Di fare lui Esiliare questo Tocca a te Vai Ok Non è male che Gli ho girato adesso Vabbè che tanto Non aveva metalcraft Però Va bene Non è troppo un problema In realtà Questa cosa Questa ce l'aveva in mano Come ce la gestiamo Questa situazione qua E coin truth Non ce l'ho Non ce l'ho Cazzo Averla avuto Veramente comunque L'avrei salitato sempre A pensarci bene Sto pensando di me In the carro Non interessa Prendo Non puoi farlo Io dopo guadagno X vite Il 3 torno a 20 Insomma Mentre dai bolt Mi muoiono Quei pezzi Allora Qui possiamo fare Ponder Guadagnare 6 vite Ok Allora Allora Noi vogliamo Sotto Così E cosa Shuffle No A questo punto Facciamo lui Ho detto Al cimitero Deep analysis Ok Pesco Ok Io pesco 23 E Faccio Cancelleria Rimbalzo Questa Vai Pure Tocca a te Vai E in upkeep Ciclerò Ash Barnes Siamo a 23 Quelle tre robe lì Non me le toglierai mai A meno che Non mi fai dire Morca La putt Vacca Però Non hai un board Clamoroso Monoidro Blaste al cimitero Basta pescare La nostra Una nostra Archiomante D'altronde O Don benga il cleric Sì Va bene Va bene Minimo Qua da 18 Quindi Non c'è problema Porca miseria L'ansia di giocare Questi mazzi Che ci mettono Un sacco A chiudere È pazzesca Comunque Va bene Va bene Ciclo Abbiamo detto Prendo via Blu Pesco Scarto Questa Tipo Analisis Madonna mia Quante lande Che dobbiamo pescare No Facciamo lui Castato Stiamo aspettare A farla landa E se pesca Una bounce Land Pesco Potenzialmente Pesco Pesco Come lo vuole Non vuole far saltare Si 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 va bene Tanto io pesco due Poi Capiamo cosa fare Si I due goblins I due goblins Sono partiti Dopo faremo Sage Rodenize Deep Analisis Andiamo a recuperare Ancora vite Con Sage Ro Cominciamo a macinarlo Se peschiamo Delle creature Qua Appareremo Adesso Il suo goblins Se continua ad attaccare Lo pariamo Va bene Non paro Pensavo di poterlo fare E invece Beh dopo abbiamo un 2-3 Che vola Che paro il suo 2-2 Potenzialmente A meno che non vuole saccarsi Un po' di roba Beh comunque abbiamo visto carte Ma non tantissime In più di lui Devo dire che Nonostante 13 Ah per pescare L'hai fatto Ok Poi dicevo Micchia Se riesce a uccidermi da qua Però Un volte al cimitero Tra 6-9 Non ce la fa Oddio Forse si Ah una me l'hai tolta così Va bene Se una granata La goblin guarda L'hai tirata lì Invece che in faccia A me Bomba Granata Va bene Ok Allora Ponder Mettiamo Allora Finalmente Facciamo Prior Day Mortuary Mire The Modern Age Shuffle No Facciamo Terra Facciamo The Modern Age Scarterò Una Delle Terre Scarto Facciamo Tipo Analisis Qua Mazzo Ho pagato Uno in più L'ho pagato Uno in più Perché sono Scemo Ok Via Quello Non Un problema Gigante Pesco 2 Facciamo Sage Road Nice Poi Comunque Abbiamo Il Removal Cioè Scusatemi Mortuary Mire Per riprendere I pezzi Vai Ammazzarmi Non mi Ammazzi E adesso Sono avanti Io di Tempo Cominciamo A vedere Sta Roba Due Volti Ritirati Qua Una Galvanica Andata Una Goblin Granada Anche Mi sembra Che mi Hai tirato No Da qualche Parte Sì Infatti Eccola Insomma Mo ne Parliamo Di chi Mi fa Fare Tutta La Combo Porca Miseria Va Bene Devi Dermi Doppio Aspellini Va Anche Bene Guarda O Pensavi Di Avere Ma Poi Ti Tacchi Il Pezzo Va Bene Faccio Mortuary Mire Peschino Lo Ripesco Cavallo 5 Sì Sì Non è che siamo sempre felicissimi Però lui le carte in mano Una certa comincerà a finirle Ok Scarto Tè Ugale E qua Prendo di nuovo Sage Rodanizen Yes Faccio Preordain Tra l'altro poi salvo il target Quindi insomma Dust To dust Rimuovi incantesimi No Ok Quindi sotto Sopra Ok Facciamo Sage Rodanizen Torno a 22 Passo 22 pari Tu hai fatto un sacco di sbatti Per uccidermi Non sembra che ti sia riuscito Per fortuna Ho finito un po' di peschini Questo Non benissimo Se devo dire Però Vai bene Vai Schiaffoni per me 5 Questa gira E tu milli Tanto questo è un 23 Lui ha 123 Pezzi Guarda se vuoi uccidermela Benvenga Dopo rimetto in cima Il drifter Pesco scarto Pesco scarto Va bene Non è importante quel pezzo Anzi sono dei trigger Che partono Quindi Che palle To Via questa Facciamo così Riprendo in mano Mortuari Maier Potevo prenderci del mano Non fa niente Facciamo dust to dust Qua e qua Puoi spararmene addosso Se vuoi Tocca a te Abbiamo recuperato Una botta di tempo Siamo a 17 Non è infinito È abbastanza Però magari Siamo a 15 In realtà Perché giustamente Lui si rimangia Con gli artefatti Noi Dobblin che Le cleric Sempre sto cazzo Perché non lo vediamo Neanche per ridere Vai pure Tra l'altro Ma siamo avuto Un pezzo Che poteva parare Ce li ha fatti partire Artefatto Così ci può sparare Cugliotare birth Che sono più spari Dobbiamo pescare Qualcosa di blu Un peschino Sarebbe gradito Mazzolo 10 Mettiamo al cimitero Questo Tiriamo qua Pesco scarto Davvero Prendiamo Muldrifter in cima E passiamo Noi moriamo Da questa cosa Incredibile Siamo morti Da questa cosa Da doppia Da tripla terra In fila Perché sono 5 e 5 Di makeshift munitions È pazzesco Però ragazzi Cioè Non ci voglio Credere Dai Avevamo Archeomanti Avevamo Quanti archeomanti Ho tolto Da sto mazzo Cioè Per capirci Perché mi sembra Pazzesco Un archeomante In meno Poteva mettere Un nido Blasting Pro Ed è stato Un errore Va bene Ma poi avevamo Tutti i ponder Tutti i peschini Oh Ma cazzo E lui non mi spara È pazzesca Se non mi spara Adesso È un criminale Ma davvero Ma è veramente Un criminale Ma non ho capito Cosa ha fatto Va bene Allora io risposto Guarda ciclo Sì Sì Blu Dai ho solo spell Blu Nel mazzo Oh Allora Noi qua Dobbiamo fare Archeomancer Così Ci perdo Un po' di tempo Ma Prendiamo Idroblast Qua Target Questo Guadagno 3 Madonna Mi è meno male Che lui Ha giocato Veramente male Le senare Van Frantumati Il secondo trigger Mi rimbalzo In mano Archeomante Se lui Vuole saccarmi Qualcosa Va bene Ma non ci recupera Più con le vite Posso fare Snaps No Ok Prendo questo Prendo questo Con effemerate Con effemerate Targhetto Con questo Targhetto Credio Snap Si guadagno Un tot di vite Snap Qua Stappo 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 Uccidici Vai Si Come no Siamo stati Molto Fortunati Che cosa Pensava Che potessi Di avere Beh Magic Ebbene Magic è bello Anche per quello Si vince Anche per gli errori Degli altri Soprattutto i combo In realtà Spesso vincono Per gli errori Degli altri Scusate Guarda Credo che il mio 0-3 Sia prontissimo A parare Il tuo 3-2 Ace Vigilance Vacca La put Vacca 3-3 3-2 4-3 Mi attaccano Vai Ah Va bene Prendo Non blocco Non devo solo Perdere di tempo Adesso Devo stare molto Attento a questa cosa Qua prende Effemerate Ok Perfetto Perfetto Guarda Facciamo Tac Tac Faccio lui Guadagno 3 vite Bomba 2 vite Scusa Magari Te la sarebbe Stato carinissimo Invece Mi accontento Di 2 Poi faccio Questo Facciamo Snap Effemerate Muldrifter Sopra Non shufflo Faccio drifter Pesco 2 E passo Vai E dopo ti rimbalzo Un tot di pezzi Tipo Pesco scarto Ok Faccio snap Con questi Snap questo Stappo questo E questo Prendo 2 Ok Ma guadagno 2 E riprendo in mano Un effime E passerò Senza Problemi Anzi Posso staccare Addirittura Con il mio Muldrifter Alla 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 Grandissima Proprio Lui si sta pentendo Amaramente di quello Che ha fatto Può essere Eh si Diciamo che giocare Quella combo Mi ha portato via Tantissimo tempo G1 Ma proprio Tantissimo Tempo Cioè Non saremmo mai Arrivati a questo Punto Della partita Ah ci vuole far pentire D'aver fatto la combo Facendoci passare Il clock Come se fosse arena Accettiamo Di buon grado Dato che comunque Stiamo vincendo La partita Senza problemi Scriviamogli pure Nice Vediamo se risponde Ok Rebind Due zilda Questa cosa Tu Guarda no Non c'è problema Tu Qua sopra Su Archiomante Ok Archiomante Riprende Riprende questo Stappo Pesco Ok Scarto Dust To Dust Faccio un famiglio Con questa Blinco Questa Con questa Faccio Ponder Giusto per vedere Cosa ho nel mazzo Faccio un ponder Ok Any order Yes E passo Un altro ponder Così andiamo a 34 Tanto noi a 37 secondi Non può far niente Di che Any order Shuffle Terra vai Ok Tocca a te E' buona Finiamo qua La riprendiamo Poi passiamo Senza troppi problemi Problemi quando fanno sta roba E' che poi devi aspettare Per forza No Vai Tocca a te Se Cioè qua Tipo E' impossibile Che io perda A questo punto Della partita Ma lui vuole Farmi sta roba E facciamogliela fare Ma potrebbe anche Concedere A 10 secondi Dal termine Figurati Vai Ma probabilmente E' un grinder Che sta facendo Double Q Non lo so E' giocato Un mazzo Forte Che non richiede Troppo tempo Per essere giocato Sfortunatamente per te Amico mio Il combo del formato E' anche uno dei mazzi Più lenti Che esistono Per essere giocati Quindi insomma Hai beccato Proprio Proprio Ma Vai Che noia Cioè Così tanto hai perso Concedi Capisco se fossimo 10 secondi Io 10 secondi Tu che vinci La connessione Però Ok Vi invito la partita Buono Avremo vinto In ogni caso Nel senso che Comunque Non La situazione Era troppo a nostro favore Per perdere questa partita L'abbiamo Overgrindato Incredibilmente di risorse Peccato che vi sia Un pochettino Stroso Vi verido Tutti voi Che perdete i dadi Io le vinco tutti Poi perdo le partite Ma questo è un altro Paio di maniche Che perino Dopo un piccolo Mulliganino Vogliamo mettere via Uno dei preordeni Che è Triplo peschino Magari E' bello Ma non è Cioè Nel senso Gioco 7 Quindi vogliamo Vederli Però Allora Qui partiamo Terra Godfarious Che è il nostro pezzo Prefe Come abbiamo scoperto La partita di prima Mi ha Distrutto la vita Sono Keep Togliamo un preordain Vai Devo prendere i preordain Quelli Yeah Con l'arte strana Vai Tocca a te Sto giocando Adesso giocherò Tutto uber veloce Incredibile Fatto Gates Vediamo com'è il matchup Con Gates Sono curioso Basic cycling Blue Blue Preordain Always Seed Vabbè Tutte e due carine In realtà Top Top Per dopo Vai Turno dopo farò Ponder Into Cose Ponder Into Cancelleria Allora Seconda God Pharao Vogliamo Questa Non Credo di Voler Niente Però In realtà La cancellia Numero Due È forte Quindi Tac Tac Seconda God Pharao Che Faccio Facciamo Questa E Faccio Così Torno dopo Posso fare Snap Su uno dei due Pezzi In tumult Drifter Ha senso Non credo che abbia un senso esagerato Quindi aspetto un turno e passo Vai Lui Boh Ha tenuto una mano Un po' così Faccio drifter pagato qua Non mi interessa particolarmente I vari trigger Perché lui si cura in mano un removal Vai Tocca a te Ti lascio una mossa Amico caro Sì Soltiamo tutto il mana Che ci danno le nostre terre Ok Turn off E li rimettiamo Vai Counterremo la simpatica amica Giusto per avere il board totalmente libero Sì Per fisco Continuare quella Che è questa All weasid Su queste Un glintav Ancora Ci basta pescare Una spell Faccio un pochino Di value Tipo archiomante Che ripiglia Ponder Non malissimo In realtà Prendiamo Ponder Ok Adesso appunto Facciamo questa Tanto la terra Vogliamo farla Per stare Quindi snap Facciamo Uh Ephemerate Fico Shuffle No Passo Doppio Ephemerate Vai Tocca da Value Infinito Sì Value Incredibile Va bene Pesco Ah già però Pam 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 Andiamo Se voglio farci Un rimuovo al sopra Siamo pieni Di spell Da fare Mi da Rosso Questo Che palle Veramente Dobbiamo Riprendere Uno snap Che tutti questi Hanno perso Target Facciamo Terra Bianca Ok Stappo Stappo Con archiomante Riprendo Un peschino Tipo questo E di vite Non perdiamo Neanche sta partita Sì qua È stato tutto un giro Per fargli Praticamente Dimituturac Tra lui e me Non è che Chi so Chi ci abbia guadagnato Però noi abbiamo Un ottimo Ephemerate Che torna Dal cimitero Che torna Dall'esilio Che ci permette Di riprendere Il nostro Snap Va bene Madonna mia Mamma mia I coin truth Main deck Che figurina forte Sì Sì F6 Per me Ok Ma io voglio tirarlo Perché non me lo fai tirare Col primo Riprende Ephemerate Col secondo Riprendo Un peschino Ce l'aveviamo già in mano Sapendo uno snap Draw Ma qua facciamo via Perché Non mi interessa Vedere altre terre Facciamo ponder Allora Sage road nice Tutte belle queste Così 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 Shuffle No Facciamo questa Questa via Oh potevo Scartare Vabbè Fa niente Qua possiamo Fare Tag snap Facciamo Che ti lancio Via un goblin Perché mi sta anche Un po' sulle palle Questo goblin No Su Ephemerate Qua sopra Con questo Riprendo Ponder Questo ponder Faccio questo Shuffle No Tocca a te Vai F6 E tocca a te Mamma mia Tutte le volte ci troviamo sotto di tempo Sì Va bene Mi hai tirato 3 4 removal Ma adesso hai una gate Oh vabbè Quella ci sta Ci sta Via Archeomancer Dobbiamo trovare un altro Ecco in trutta Cosa sarebbe forte Ma è incredibile Pazzesco Sì Vai Mi tengo in mano la terra Tanto non serve farla Siamo a 38 Vero che ha Un basilisk Non ne ha 200 Quindi può dare Più 4 più 4 Lo fa Va bene Va bene Va bene Come ne usciamo qua Con un archiomante Che bomba Ok Allora Archeomante Riprende Ephemerate Ephemerate Blinka Archeomante Che è il mercato Il mercato mio padre Con Pro Che prende Snap Che fa Questo qua E di vite Di nuovo Non si muore A questo punto A questo punto Facciamo Archeomante Che prende Ponder Che è il mercato Il mio padre Comprò 38 38 Va che belle Queste figure Sonscape Moodrifter Sonscape Shuffle No Vai Tocca Te Vai pure Beh Noi il nostro Lo stiamo facendo Mi pare Comunque Anche qua Non è una partita Combo dritta Per dritta Adesso in realtà Con i due Sonscape Scombiamo Però sappiamo Che la combo È un po' lunga Come tempistiche No Sì Beh Poi lui Adesso Poveriamo Remo Al qualsiasi C'era Stoppa Che comunque Di carte Eccolo lì Di carte Ne vede Sì Noi facciamo Blinco Cose E poi vediamo Sì Il mio 23 Para Il tuo 23 È buono Allora Tu Qua Pesco Scarto E tu Qua Ok Pesco Noi qua Facciamo Pesco Scarto Di Analisi Faccio Te Casto Te Pesco 2 Vada 33 Pesco 2 Ok Faccio Dip Analisi Su di me Ok Faccio Questo Questo Sotto Sotto Sopra Facciamo Flicker Qui E qui Pesco 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 2 Facciamo Mortuari Mair Rimetto in cima Archiomante Tocca a te Yes Vai 39 39 Sono abbastanza tranquillo del fatto di poter vincere il turno dopo Si Proprio bello guardare gli altri attaccare e dire vabbè chi se ne fotte anche un po' no Possiamo anche pensare di ciampare con il nostro mood drifter Proprio il pezzo più grosso che hai Altro cool dota Bolt Meno che non mi toglie mai Sage Rodenizing in realtà 2 4 6 11 12 14 16 18 Prendo Va bene Con che leggerezza con che simpatia Ok esilia la rimetti in campo questa va così questa fa cosa a questo punto ne facciamo Tac 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 Lui Ok Tu prendi Ephemerate Con Ephemerate BlinkT Tu prendi un altro Ephemerate Con Ephemerate BlinkT Tu riprendi Uno snap E poi facciamo Tac 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 Qua Se è zero carte in mano forse però Facciamo questo Almeno Ok Ripendo snap Facciamo un ghost di flicker Qua e qua E vai pure tocca a te Vai pure Vai pure Buono E ci abbiamo messo anche meno dell'ultima partita E ci abbiamo messo anche meno dell'ultima partita Ne abbiamo finita con 13 minuti Adesso ne abbiamo 15 Che bomba Il boros gate Il boros gate rimane comunque uno dei mazzi super giocati incredibilmente Beh ci sta nel senso molto forte Allora prima abbiamo messo i dust to dust I revoke resistance Don't bringer Non abbiamo messo prima questa Ne metto 4 Adesso Secondo me Allora Questa si può saltare Un Ephemerate può salutarci Snap 2 Li tolgo sempre A sto punto tolgo i proibit Perché ho messo dei counter più efficaci Tolgo un ghost di flicker E doppia di panalisis Parca miseria Tanta roba forte in realtà Sto andando a togliere Ma tanta roba forte Proviamo così È una serie completamente diversa da prima Non so quanto mi convinca Però Prima ci lamentavamo del fatto che Non avevo messo le hydro blast Però secondo me Lasciare il mazzo molto liquido Cioè che si presta molto bene alla manipolazione È meglio che mettere delle carte super impattanti Incredibili Però è una mia teoria E quindi Boh Done Vai Tra l'altro neanche questo C'è risposta al good luck e fan Deve essere una peculiarità Di giocatori di Boros cose Vai Artefatto Artefatto Boh guarda Cancelleria Zorius Mi rimbalzo questa Vai Potevo ciclare Ash Barrens Forse Qua L'avrei sfruttato un po' Meglio il mana Però Chi se ne Sì Tolgo doppio artefatto Va bene Peccato Peccato Mossa poco simpatica Se posso dire la mia Vai Vai Tocca a te Sì Le terre le abbiamo Vedo Ok Qua facciamo Sonscape familiar Vogliamo ciclare a fine turno per fare poi sicuramente dopo Muldrifter col mana colorato giusto Sì direi di sì Sì direi di sì Sì direi di sì Fino alla prossima Sì forse potevo evitare questo Sonscape Però Sì E ancora Abbiamo messo un botto di hate Per gli artefatti Ma effettivo Non è che ce ne serva Incredibilmente tanto Ciclo Sì forse potete aspettare Però non avendole brainstorm Non vedo mai questa incredibile necessità Di non fecciare al volo Ditemela se la conosce Cioè se c'è una motivazione Che io non vedo Che sicuramente ci sarà E non è che Uno Va bene Ne ho un altro Per fortuna tocca a te Sì Entetizer Ok mi togli Sonscape familiar Un po' stronzo Se posso dire la mia Però Ci sto Uccelletto che viene dalla Ah no non me lo togli Sonscape familiar Micchia Doppia galvanica Girata dalla cima Ma se ha la seconda terra rossa Me le toglie Non paro perché Se no Mi fa galvanica sul pezzo Chiaramente No bene Uno è in faccia a me Ah la seconda terra rossa Ma non è quella che conta Ok E qua andiamo di Tac 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 Muldrifter Evoca Cioè non evocato Scusatemi Doppio dust to dust Inutile a questo momento Del magic Stop in di Muldri Di effimerite Che insomma Non mi sembra Malissimo Lui si è giocato Tre removal Già Sì Adesso ha galvanica Open Va bene Però C'è da dire Che noi abbiamo anche Dei target Per dust to dust Si Paro questo Lo paro senza fare Effimerite Poi praticamente Faccio quasi nebbia Se vuoi Counterarmi Questa roba Dei farmi Due removal Quindi va bene Non soffro Particolarmente Allora Noi qui possiamo Fare via Questi due Così Poi Snappo Questo E Stappo due E poi Facciamo lui Guadagno tre Guadagno due Si che lui in realtà è più per makeshift munition Però Fa niente Ok Vai Teoria senza artefatti Quello non lo rifà Ok Ah le god faro Scusa sono forti Castalo Pesco due Bella questa figurina Vai Adesso Secondo me Lo studio Bringer Può parare Senza troppi problemi Va bene Azz Questo è male Molto male In realtà Pesco Ops Non devo fare a terra Fa niente Shuffle Archeomante Non male Cancella Prendiamo Un ottimo Snap Ok Facciamo un ottimo Snap qua Stappo Stappo Su questi Faccio Deep analysis Su di me Non è che pago poco Per farlo Però Vai Siamo a 1 Male Male Sì Qua ti puoi sacrificare Senza troppi problemi Ma va bene Forse potevo addirittura Sacrificare un archiomante Però se peschiamo un pezzo Bello Che artefatto hai fatto Oh quello Volante Impattante Il volante è impattante Va bene Pesco Cancelleria Cancelleria Perché Ah perché Non ho artefatti Da tirarti via Ragazzi Che pescatine Di merda Vai Pescatine brutte brutte Non mi sta piacendo Com'è la sideata qua però Ma per niente Proprio Comunque Cioè avevo ragione a pensare Che facesse cacare Secondo me è troppo esagerata Cioè adesso Non posso mai vincere Ok Pesco Denizen No Non posso mai vincere Così Con questa sideata Non mi piace Torniamo indietro Allora Ne lascio due Però Però rivoglio Un Preordain Che Secondo me Cosa è più bella E un Ephemerate Questa è un po' Una via di merda Cioè ho più peschini Abbiamo comunque sei peschini Del mazzo Che non sono pochi E il blue count E il blue count è Comunque ok Doppia di panalisis Fuori dal mazzo Non bellissimo Ok Sì iniziamo Scusate mi è arrivata una Notifica sull'app companion Ma io in questo momento Sono a casa E non credo di essermi iscritto A nessun torneo Sopra sopra Con sunscape Come carta che pesco Sì è come sempre Lui non parte con l'artefatto Quindi insomma Ma facciamo questa Mi ciclerò per il bianco Vai Non soffre così Esagera Beh sì Li tolgo i due artefatti Wow In realtà va bene Nel senso che poi Non può fare falchetto Che insomma E non peschi Quindi le due 1-2 qua Hanno perso tutto il value Non puoi fare cool dot Non puoi fare falchetto Hai fatto delle 1-2 Che belle Ste 1-2 Ma insomma A parte quello Non un grande successo Per dust to dust Synthetizer È già meglio Di dust to dust Tra l'altro Ti fa fare terra Porca la puttacca Perché girano Sempre bello Perché Dust to dust Pam pam Facciamo sunscape familiar Facciamo questo Mi rimbalzo lei Passo Abbiamo il nulla in mano Proprio il nulla cosmico A doppio botto A doppio botto Sempre due carte per una No Ok Ok Beh potevi attaccare Una passava Comunque Questa la metto Al cimitero Pesco bello Menchia ragazzi Che cesso Vai Sarebbe bello Pescare bello Ammetto Se Farò così Lui mi fa Non mi fa Una spell Ok Sì Secondo bianco In campo Mega sbatti però Comunque si è sempre sotto pressione Giocando questo mazzo Veramente Cioè devi correre come un pazzo Rieschiamo di fare delle misplayate Cioè devi prendere Devi conoscere i pattern a memoria Cosa che mi piace Nel senso che nel momento in cui Arriviamo a sterarlo Secondo me questo mazzo è imbattibile Oppure si è spento Totalmente Però è un mazzo che punisce tanto Cioè prima abbiamo visto due pescate morte Secondo me In quelle partite che ho perso Non ho perso per le pescate morte Cioè sì Contro un mono red Ho veramente pescato di merda Ma ci sono stati degli spot Dove ho Undervalutato Il potere delle carte Cioè quanto potevo Effettivamente Quanto potevo farmi dare indietro Dalla figurina Quindi Quasi bene Flavio Non pienissimo Oddio Ce la possiamo fare? Allora Vabbè Sei andato a prendere una roba da bere Lui ci sta Accetto questo fatto Recuperiamo del tempo incredibile Dai ragazzo Cioè sono io Cioè sono io quello col mazzo Che ci mette un sacco di tempo Proviamo a scriverli Internet Problems Ok E qua prendo questa Ciclo Prendo questa Così ho tre isole in mano Invece di una sola Stappo pesco Una spell Porca puttana Veramente Quante terre Dobbiamo avere Mazzu Cioè quante terre Devo pescare Prima di poter pescare Una spell Si falchetto Skyfish era anche Molto carina Considerando che puoi fare Quella Doppia Skyfish Incazzatissimo Anzi Super Incazzatissimo Cioè noi non abbiamo Modo di difenderci Da sta cosa La mia Simpatica Ah no Non è morta La mia simpatica Amica Vero Non l'ho proprio Pescata Stappartita Me l'ho uccisa La partita Prima Madonna Doppia Skyfish Una flotta Volante Noi peschiamo Deep analysis Che comunque È una figurina Due le abbiamo Pescate Allora Top Top Facciamo Lei Solo per guadagnare Una vita Questa cosa Incredibile Fa schifo Come faccia schifo Adesso la mia Di esistenza Rispetto al gioco Di Magic the Gathering È incredibile Ma vabbè Secondo di loro Se Se Il problema È che Comunque Abbiamo poca roba Nel senso che Adesso Questo Che mi fa Perdere Un sacco Di vite Vado a 4 Se mi fa Galvanica No ma Galvanica Me l'avrebbe fatta Prima Sono a 5 Dai Veramente Raga 1 2 3 4 5 2 le ciclate 6 7 8 9 10 11 lande Su 21 3 le ciclate 11 lande Su 21 E vabbè GGVP Che ti devo dire Io speravo di pescare Delle spell Da fare Ma ragazzi Così è impossibile Per quanto a me Dispiaccia Arrendermi al fatto Di dire Minchia va bene Cioè Anche il ragionamento Che facevo prima Però ragazzi Cioè Una fila di terre Così non la vedevo Da un botto Facciamo l'ultima Sperando di non Morire dalle mie lande Per favore Dai Ultima partita Di oggi Va bene Kippo Ho deciso che questa La Kippo Ultima partita Di oggi Speriamo di non morire Dalle troppe lande Mi tengo una mano Contra i lande Una di queste È Mortuary Mair Che naturalmente Non la vogliamo In maniera iniziale Ma sti cazzi Vediamo contro cosa Siamo Ubicontrol Questo potrebbe essere Il primo non bel Matchup Della giornata Che insomma Ci sta Ci sta Beccarlo Il primo matchup Dove lei È inutile E Penalizza il fatto Di aver sorti Counter Di side Ma vediamo Contro cosa Siamo Fatine Nel sedi Ma guarda va bene Va bene Preordain Su Su Facciamo questo passo Per avere Open il counter E poi Però in cima Non posso Fare Ash Barnes Perché in cima Ho una carta che voglio Niente ninja Ma sarà proprio Una versione Uber control Questa Vai Problema è che Noi non abbiamo Delle minacce Instant Da andare a farli Mentre lui Può permettersi Di giocare così Forse comunque Dovrei giocare La versione Con Dean Roar Horror Non so Devo provarla Quale mi manca Ancora Perché se All'ultimo Non ha fatto niente Cicliamo la landa Ciclo Per questa Pondero Shuffle no Pondero Va bene New order Yes Via Va bene Ok I Ponderos Non più belli Del mondo Però Ponderos Vai Su Come Dirti Di no No Però l'ho fatto L'hai fatto Scusa Ragazzi In altra terra Io ho detto Prima che volevo evitare Di morire Dalle milande Qua faccio Mortuary Mai Yes 8 carte Mi butterò Un deep analysis Al cimitero Qua anche se Shuffle non è un problema Nel senso che Tanto ho un altro Di quei pezzi In mano Questa è una mossa Poco simpa Allora mi tengo in cima Muldrifter Perché Non carina E simpatica Come cosa Un altro Muldrifter Ah si giusto Che pirla Un altro Muldrifter È quello Che ho fatto Prima Perfetto Qua mi arriverà Un counters Per Tirami due carte Per favore Ok 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 Vai Cominciamo a fargli Sfruttare un po' Le figurine Che è in mano Perché se no Qua Non ne usciamo mai più Dopo proviamo a fare Allora facciamo Allora facciamo Sonscape familiar È vero che ci perdo Se fa un deprive Poi qua ci perdo Delle cose Però neanche esagerate Facciamo un'altra Di modern age Prima A grindare un po' Via cancelleria Vai Tocca a te amico mio Non vuoi tirarlo mai Quel deprive Tra l'altro Chissà per cosa Se lo tiene Che ci proponi Adesso mi tira deprive Va benissimo Tappa out Io faccio Un drifter Ok Io faccio Drifterino Evocato Into Drifterino Pagato Così pesco Una botta Vediamo Cosa pesco Scarto Delle due Modern age Che comunque Sono una roba Che poi Gli dovrebbe dare Fastidio Ok Pesco Scarto Cancelleri Isola Pesco Scarto Tranquil Cove Lui non si è rimbalzato Quella Quindi facciamo Così Cosa Tra i Consiconsa Evoc Rimbalzo Stappo Stappo Ok Facciamo Questo Non siamo fortissimi Contro Editto Siamo Abbastanza Forti Contro Spot Removal Però E poi Comunque C'entra Doppio Pezzo Ah si è rimbalzato Quella Amica Contro Familiars Interessante Come scelta Due carte Grazie Ak 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 è una bella figurina Lo invidio per giocarla Ok Buono Molto Buono Dopo risolvo Effimerate Faccio un cazzo di casino Ok Ce la portiamo a casa Ok Big inside boarding Vediamo Un po' La mia side È inutile Tu Per togliere Ditti E tolgo Una God Faro Elemental Che Basta Fine La mia side Contro Contro Fa Ridere Scusate Ridere I polli Quindi sarebbe Da andare A rivedere Se non Freeze MTGO O Triple Peschino Va bene Sarebbe Da rivedere Probabilmente Con delle altre Carte Tipo Counterspell Di side Da mettere Per questi Matchup Tutte le terre Del mondo Va bene Dopo Facciamo ponder Tutte le nostre terre Via Il problema è che Ponder Sì Vabbè Vogliamo Deep analysis Sì To 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 Shuffle No Vado a Sette carte Vai Non potevo fare Cancelleria Perché se no rimanevamo A otto carte In mano Diventava un po' Una mossa Destuca Bellissima Insomma Diciamo Non missare Landdrop Contro Contro È essenziale Per tutti I combo Nel gioco Del magic Ok AK Anche lui Non miss Landdrop Così Ci sto Non mi è dispiaciuta Come mossa Vado a 8 Allora qua Mi va bene Fare questa mossa Perché mi do Del bianco Non pesco Vado in Discard Di una Delle due Deep analysis E vai Tornopo posso Fare Posso fare Anche niente Credo di poter Fare Terra passo Dipende un po' Cosa fa Lui Oh Davvero E allora Io faccio Questa Ti tolgo Dal cimitero Quella Non pensavo Tu la giocassi Grazie Perché Non avrei avuto Un target Altrimenti Facciamo Così Dopo Devo fare Ma sì Così Va bene Vai Tengo Snap Open D'altro 1 3 Che pare Sui 2 2 Mi piace Un sacco A 3 Benchè riusciamo a tenerci Sul fatto di fargli pagare Di fare due carte sue Per una mia Siamo veramente felici Come la Pasqua Si vince così Contro Control Bello però Lui coraggioso Che gioca a Blue Black Control Empower Mi piace Veramente un casino Al mio rientro Empower Ho giocato Una challenge Un anno e mezzo fa Tipo E sono arrivato Qualcosa Come Diciottesimo Proprio Grazie a Blue Black Control Perché Non sapevo Che Si potevano giocare Dei mazzi veri Però Se può Fa Allora Ok Noi qua Facciamo questo Poi facciamo Blue Facciamo Cancelleria Ok Rimbalzo Te Faccio Snap Su uno Di questi Stapo Uno E uno Due Ops Ho sbagliato Facciamo Un Preordain Evolving Wild Sotto Ho vinto Va bene Si è arreso Perché effettivamente Diventava un po' Una partita De merda Se i miei Counter Costano sempre Uno e i suoi Costano sempre Due Mi spiace Aver perso Quelle partite Che non avrei Dovuto perdere Perché ho pescato 100 milioni Di land E questa cosa Mi ha portato Un po' Sotto di Playpoint Però Vabbè Chi se ne frega Stiamo riprendendo Se dovessi Rivedere La side Cosa che Credo Farò Riportiamo a Zero Questa cosa Allora Sicuramente Metterei Un counter Siamo questi Siamo scese Sei Di questo Scenderei Di un altro Per stare Su questa linea In maniera tale Da mettere Qualcosa contro I token E un pezzo Da mettere Controllo Effettivamente I proibit Carini Ma non Esagerati Mentre se Metessimo Loose focus Andrebbe tutto Molto meglio Secondo me Appena carica Con calma Perché tanto Counterà Una spell A meno che Non paghiamo Due Che può essere Molto forte In realtà In power Presumo Che la andrei A giocare Così La lista E sotto Vi posterò Questa Che giocherò Il prossimo video Che lo gioco Perché credo Di volerlo portare Almeno una volta A settimana Questo mazzo Per qualche periodo Per rimparare A giocarlo In vista Di il prossimo Povergeddon Si Ci piace